Cosa facciamo questa macchina? Ehi, domanda sempre. Vedo il bandino o no? Mi stai offendendo. Vedo il bandino o no? Qualcosa di molto più impegnativo. Aspetta. Allora, ci troviamo sulla strada per l'ospedale. Per darvi l'idea di quanta acqua sta scaricando. Guardate. Via Don Minzoni. Via Don Minzoni allagata. Ora ci porta a parlare della sezione comunista. E' un GLS. Ma andate calma. La stagione. Grazie. e noi con la macchina di Giorgio lo siamo con il mitico Rav4 con la macchina di Giorgio con la macchina di Giorgio ehi salvaggio vi facciamo anche un passaggio della stazione così veloce veloce giusto per farvi vedere un po' la situazione Giorgio ma tu mi dici che è morto qualche pallo allora poco fa abbiamo percorso via Don Minzoni che è totalmente allagata prestare attenzione via Don Minzoni che sicuramente ora anche il viale della stazione cioè stazione non il viale zona stazione sarà allagatissima per quanto acqua scendeva per la stessa via Don Minzoni per chi non sape se questa è alguna cosa non va a festucar guarda insomma e vedete un po' che acqua qui ci stiamo recando presso la stazione di San Severo dove aver percorso via Don Minzoni che è totalmente allagata fino a qualche istante fa era totalmente allagata anche la stazione ora ci facciamo questo giro per dare un occhio un po' alla situazione giusto per tenervi informati per quanto riguarda la situazione la condizione medio e il danno che può causare o che già ha causato non lo so qualche cantina sicuramente su via Don Minzoni si è allagata di sicuro io adesso ho dei problemi che ne ho messo sempre in dall'acqua non si può mai sapere anche qui la sega la nasa randriera da poco si oramai si ha aperto il tempo siamo in zona stazione sansevero ora vediamo che cosa è successo vai vai è passato tutto è tutto passato oramai ed eccolo qua zona piale della zona stazione come vedete allagata la stazione è allagata piazzale rotatore non la stazione scusate alla stazione ci dobbiamo ancora arrivare a 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 la stazione per oggi è salva a 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 meno male che Timma non ci lascia mai apiti ogni volta che c'è un mal tempo a 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 spero in un'occasione migliore vi salutano Aldo e Giorgio ciao